Si chiama Oleoresin Capsicum ed è il principio attivo su cui si base il nuovo strumento in dotazione da oggi agli agenti di Polizia di Stato. Il principio attivo è infatti quello che si trova alla base dello spray al peperoncino. La decisione di dotare gli agenti del nuovo strumento arriva direttamente dal Ministero degli Interni, che su scala nazionale ha introdotto lo spray già in dotazione da almeno due anni da parte degli agenti di Polizia Municipale di Ferrara. Il nuovo strumento dunque punta alla prevenzione di incidenti in caso di interventi. Lo spray infatto è in grado di immobilizzare la persona da fermare, ma non è nocivo, spiega lo stesso questore di Ferrara Antonio Sbordone. La finalità è quella di in determinati contesti di confronto con persone che dobbiamo fermare, arrestare o impedire una condutta violenta o un reato in atto, l'agente abbia uno strumento più efficace e anche più sicuro. Gli agenti sono stati formati e allenati all'utilizzo del nuovo strumento dopo un corso tecnico-pratico tenuto con istruttori qualificati. Formazione effettuata anche grazie all'intervento di medici della stessa Polizia di Stato. Lo spray dunque, come sottolinea il questore, è un modo per preservare l'incolumità di chi viene fermato, ma anche un modo per salvaguardare gli agenti che devono intervenire. Bisogna evitare che ci sia proprio il contatto fisico, perché il contatto fisico è pericoloso, come diceva giustamente lei, sia per la gente che per la persona che deve essere in qualche modo fermata. Si stiene a una debita distanza, il prodotto è un prodotto che crea un momento di inabilità molto transitorio, non è pericoloso, è stato testato, ma dà la possibilità agli operatori di fermare con una maggiore sicurezza e una maggiore tutela per tutti la persona. Lo spray al peperoncino dunque serve per evitare il più possibile la collutazione in caso di interventi della Polizia di Stato. Assolutamente sì, io dico che la colluttazione è una cosa che per quanto possibile va evitata, va evitata perché quella sì può essere pericolosa per l'operatore e per la persona da fermare. La colluttazione è un'extrema razio da evitare assolutamente.